Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Ehi! Sono io, Blippi! E oggi visiteremo uno zoo a Phoenix, Arizona! Ehi, penso che oggi insieme impareremo un bel po' di cose sugli animali! Andiamo! Wow! Avete visto? Quella è una scimmia urlatrice! Esatto! Avete visto? Già, proprio lì! Questo è Bilbo! Si chiama così per Bilbo Baggins! Che buffo! Facciamo l'imitazione delle scimmie? Blippi! Wow! Guardate! Quella è Lulu, il rinoceronte! Lulu ha 21 anni di età! Yeh, Lulu! Festa! Woohoo! Yeh! Quello è un tucano! Lo vedete? Il suo grande becco assomiglia a una banana! Ehi! Che ci fate lì? Venite di qua! Cerchiamo qualche altro animale! Wow! Guardate questo! Sapete che animale è? Esatto! È una tigre! Uh! Ciao, gattino! Uh! Wow! Venite qui! Giratevi! Uh! Wow! Qui è dove vivono le tigri! Ehi! Guardate chi c'è lì! Sembra che stiamo per vedere un po' di addestramento! Vedete? La tigre sta facendo esattamente quello che dice il guardiano! Sembra che si stiano divertendo un mondo! Punta! Bene! Punta! Uh! È stato fortissimo! Lo avete visto? Ehi! Puoi spiegarci cosa stavi facendo? Certo! Noi addestriamo gli animali per rendere le cose più semplici sia per loro stessi che per lo staff! Uh! Noi insegniamo gli animali a fare giochetti, lavoriamo sui comportamenti. Per esempio, quando dicevo a Jay di puntare il naso verso la cima di questa asta, lo facevo per farlo girare in varie posizioni per guardare diverse parti del suo corpo. Farlo stare su due zampe non solo impressiona per quanto è grande una tigre, ma mi dà l'opportunità di vedergli la pancia, perché proprio come noi possono farsi male, tagliarsi o graffiarsi, così riesco a controllare il suo corpo per essere sicuro che stia bene. Oh! Grazie per avermi mostrato quello che mi hai appena mostrato! Ma di nulla! Bene! Ci vediamo dopo! A dopo! Ah! Andiamo a vedere qualche altra cosa! Bimbi! Wow! Lo vedete quell'animale? È un altro felino! Quello è un giaguaro! Wow! Guardate! Ho un secchio di carote e delle pinze! Ci hanno detto che dobbiamo dare da mangiare al prossimo animale! Andiamo! Wow! Ehi, vedete? Questi sono dei cavi e dobbiamo stare da questa parte, ma abbiamo avuto il permesso di affacciarci all'interno per nutrire gli animali! Andiamo! Ok! Questa è una piccola barriera! Interessante! Non è stato troppo difficile entrare? Oh! Ora vedo che animale è! Passiamo fra i rami! Wow! Ehi, guardate! Guardate a che animale! Daremo da mangiare! Fantastico! Wow! Sapete che specie di animale è? Questa è una tartaruga! Diamo da mangiare alle tartarughe! Guardate qui! Questa è una carota! Devo usare le pinze perché le tartarughe hanno un morso fortissimo! E potrebbero staccarmi un dito! Ecco a te! Wow! Ops! È scivolata! Ecco a te! Wow! Ok, ne vuoi ancora un po'? Sì? Ok! Ecco a te! Oh! Eccoti servita! Wow! Questa tartaruga pesa circa 250 chili! Wow! È proprio pesante! Ehi, e indovinate quanti anni ha? Oh! Ha 66 anni! Wow! È davvero vecchia! Oh! Ciao! Ehi, guardate qui! Le accarezzo la testa! Ciao! Come stai? Wow! Wow! Guardate! La tartaruga si è sollevata da terra! Così si possono rimuovere i parassiti e lo sporco che rimangono nell'area sottostante! Wow! Wow! Ok, andiamo a prendere altre carote! Oh! Ciao! Come stai? Stai passando una bella giornata? Uh! Guardate! La vedete questa tartaruga? Questa è una tartaruga delle Galapagos ed è una femmina! Oh! 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 Ecco a te! Oh! Ecco che arriva il maschio! Wow! Vedete quanto è grande? Mi stanno intrappolando! Ok! Farò un giro da questo lato! Vedete come una è più piccola? E l'altra è più grande? Wow! Questa è una femmina e questo è un maschio! Wow! Ehi! Voi due vi piacete? Già! Sembrate proprio amici! Oh! Ah! Ne volete ancora? Wow! 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 L'hai fatta cadere! Wow! Ehi! Venite più vicini! Ok! Riproviamo! Bene! Gni! Amma! Apri la bocca! Arriva la carota! Wow! Oh! Ecco a te! È buona? Ehi! Le tartarughe amano le carote proprio come me! E le carote sono salutari! Ecco a te! Oh! Hai una bocca grande! Wow! Guardate! Sto facendo un grattino a questa tartaruga! Vedete? Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Vedete come la tartaruga si sta sollevando in alto sulle zampe? In natura lo fanno perché molte volte hanno dei parassiti! E questo aiuta i fringuelli, che sono uccelli! Ad andare sotto e mangiare tutti i parassiti di questa tartaruga! Già! Ma stavolta si tiene in alto sulle zampe perché le piace davvero molto! È un po' come quando un adulto ti fa un grattino sulla schiena! Esatto! Mi piace quando la mia mamma mi fa i grattini! Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Ok! È il mio turno! Ok! È il mio turno! Sono pronto! Sono pronto! Oh no! Bipì! Oh! Guardate qui! Questo è un armadillo! Ok! Vai pure! Corri! Corri! Oh! Guardate! L'armadillo è uno degli ambasciatori di questo zoo! Vuol dire che è un animale che potete incontrare in prima persona! Wow! Ehi! Che stai facendo? Vuoi uno spuntino? Gli armadilli adorano i vermi della farina! Ecco a te! Oh oh! Ehi! Vieni qui! Ecco a te! Guardate! L'armadillo non vi sembra durissimo? Già! È duro! Ma non è un guscio! È osso dentro la pelle dell'armadillo! Wow! Ok! Oh! Questa è la principessa Buttercup! Oh! Va bene! Ecco a te! Ecco a te, principessa Buttercup! Oh! Guardate che belle unghie ha la principessa Buttercup! Wow! Ok! Corri libera! Wow! Guardate questo animale! Che animale è? Questo è un istrice dalla coda bianca! Wow! Guardate quelle spine! Sono spine? Quelle grandi servono soltanto a spaventare i predatori, ma quelle pericolose sono sulla coda! Oh! Ok! Qui giù! Wow! Che sta facendo adesso? Sta solo facendo merenda! Oh! Mi piacciono un sacco di piante! Così le abbiamo dato dei biscotti, delle patate dolci e qualche mela! Oh! Sembra che sia assaporito! Oh! Guardiamo questo istrice più da vicino! Non è il caso di toccare la coda di questo animale! Ehi! Ehi! Bipi! Wow! Guardate qui! la prossima area è davvero forte wow sentite che rumore tutte queste macchine lavorano duro per tenere la prossima area esattamente come l'oceano venite wow guardate ci sono tantissimi filtri e altri aggeggi è fortissimo ok venite di qua adesso vi mostro a cosa servono già questa è la baia delle razze e stanno addestrando le razze a fare dei giochetti fortissimi se venite in questo zoo potete usare le mani delicatamente per toccare il dorso dei pesci ma mi hanno dato il permesso di entrare sono emozionato ok prima devo togliermi le scarpe una scarpa wow due scarpe ok mettiamole qui per ora non dobbiamo dimenticarci dei calzini perché sto per mettere questi wow questi sembrano calzini o scarpe impermeabili ok mettiamoli bene ok ok sono pronto si parte bisogna muoversi dolcemente lentamente per non spaventarli oh l'acqua è bella fresca ok wow oh ehi ciao come stai bene tu bene come ti chiami io mi chiamo mary e questa è chelsea lavoriamo qui allo zoo di phoenix uh e cosa state facendo adesso beh adesso stiamo dando la colazione alle nostre razze e stiamo controllando che siano tutte sane e felici stamattina uh sembra divertente posso aiutarvi certo vuoi nutrirne qualcuno certo diamo da mangiare alle razze ok guardatele qui ci sono gamberetti e sperlani puoi prenderne qualcuno e tenerlo in mano ok guardate il cibo wow sembra gustoso ok ne prendo un po in mano devi tenerlo come un cono gelato ok uh mi piace il gelato ok in questo modo mettilo in acqua piano e a fondo nuoteranno intorno alla tua mano e te lo succhieranno via come un aspirapolvere ok ok ecco a te guardate quello hai un trigone a macchie appoggiato proprio sul tuo piede ok devo andare più a fondo nell'acqua vediamo cosa possiamo fare ecco a te andiamo ragazzi ce l'ho fatta guardate se ne è andato l'ha succhiato via dalla mia mano posso farlo di nuovo certo che puoi grazie hanno succhiato via il cibo dalla mia mano è come avete mai provato a mettere l'aspirapolvere su una mano e sentire la pelle che viene aspirata ecco è un po quella sensazione quando succhiano via il cibo dalle tue mani wow quello ha nuotato fra le mie gambe wow guardateli si stanno abituando a te adesso capiscono chi sei dal battito del cuore hanno capito che non vuoi fargli del male così vengono sempre più vicini e si sentono sempre più al loro agio guardateli ciao quello mi ha spaventato cos'è successo si sono un po in nervositi ok in nervositi non spaventati sa ok perché io mi sono un po spaventato ma va tutto bene sembrano molto gentili eccoli che tornano guardate come mi sono bagnato bene nutriamoli ancora un po ciao guardate quante razze bene ciao ciao razze uh stiamo per andare a dorso di un cammello divertiti blipi grazie guardate questo è il dorso del cammello vedete la gobba mi ci siederò sopra wow sono a dorso di un cammello ok si parte attenti wow è un bel cammello questo è un dromedario siamo proprio in alto wow mi sto divertendo a dorso di un mondo ah oui ciao wow guardate vedete la gobba del cammello è proprio come una riserva così può sopravvivere anche sette mesi senza mangiare o tre o quattro settimane senza bere acqua notevole è wow 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 ha delle gambe piuttosto lunghe no ha quattro gambe voi ed io ne abbiamo due oh Beh, è piuttosto divertente! Wow! È stato fantastico, grazie mille! Non c'è di che! Bene! Ok, andiamo a vedere altri animali! Bipi! Siamo dietro le quinte della mostra Native Arizona! Uh, vediamo un po'! Guardate! Degli attrezzi! Ehi, a cosa assomiglia? Sembra un po' una mazza da golf! Ma vedete come invece ha un uncino? È usata per maneggiare alcuni tipi di rettili, come i serpenti! Ok, non la userò, perché non sono un professionista esperto! Uh, guardate! Wow, degli acquari! I pesci sono dall'altro lato! Noi siamo dietro le quinte! Wow, guardate questa stanza! Wow! Questa è una cassa! E qui è dove vivono i serpenti! Leggiamo di che specie si tratta! Serpente a sonagli! Velenoso? Oh! Ok! Non credo che dovrei maneggiarlo, perché, come ho detto, non sono un professionista esperto! Cerchiamo un serpente che posso maneggiare! Wow, questa stanza è fortissima! Wow! Ci sono un sacco di terrarie! Wow! Cosa sono queste? Queste sono le mute dei serpenti! Wow! Ogni serpente muta completamente la pelle ogni due mesi circa! Guardatele! Sono tutte intere! Guardate, non vi sembra un serpente? Già! Forte, vero? Ah! Ok! Ok! Le lascerò qui! Ok! Esatto! Questo sembra un serpente che posso maneggiare! Sto maneggiando un serpente! Wow! E guardate che colori! È arancione, bianco e nero! Wow! Da bambino avevo molta paura dei serpenti! Ma adesso non più! Ma ci sono dei serpenti che è meglio non toccare! Quindi se vedete un serpente all'aperto, per essere sicuri non dovreste mai provare a prenderlo così! Ok! Wow! Ti stai divertendo, serpente? Oui! Ciao! Ehi! Oh! Guardatelo! Wow! È incuriosito dalla telecamera! Wow! Wow! È fantastico! Siamo dietro le quinte di un'altra area di rettili! Wow! Ci sono tanti terrari qui, con delle creature meravigliose! Wow! Wow! Ehi! Wow! Guardate qui! Oh, ehi! C'è qualcuno lì! Venite! Wow! Ehi, cosa stai facendo? Sto per visitare una lucertola cornuta! Vuoi tenerla tu? Certo! Una lucertola cornuta! Forte! Devi tenerla... ...in questo modo! Ok, grazie! Wow! Guardate! Questa è una lucertola cornuta! Guardate le corna! Wow! È così carina! Oh, sta prendendo un po' d'aria! Ok, grazie mille! Di nulla! Ok, ecco a te! È stato meraviglioso! Ben fatto! Andiamo! Ho, ho, ho! Guardate! Una giraffa alta! È alta come me! Ciao! Un leone! Un elefante! Guardate! Questo è un gorilla! Wow! Ehi! Dei serpenti! Già! Ho maneggiato un serpente! Wow! Non è fortissimo? Wow! Ci sono un sacco di cose divertenti qui! Ok, seguitemi! Uh! C'è persino un dinosauro! Un Tyrannosaurus Rex! Interessante! Beh! È stato divertentissimo imparare cose sugli animali con voi allo zoo! Siamo alla fine del video! Ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Volete ripeterlo insieme a me? Pronti? Pronti? B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! Ok! A presto! Blippi! Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Sono io, Blippi! Oggi siamo all'Hemmings Playground di South Pasadena, California! Sono davvero emozionato! Perché sto per mettermi in azione e muovere il corpo! E fare un po' di ginnastica e movimento! Andiamo! Wow! Questo posto è fortissimo! E non vedo davvero l'ora di muovervi! Andiamo! Venite! Wow! Guardate! È un cancello! Dobbiamo toglierci le scarpe prima di attraversarlo! Ecco! Una scarpa! Due scarpe! Mi piace indossare le scarpe quando gioco all'aperto! Ma adesso le tolgo! Perché giocherò al coperto! Ecco fatto! Wow! Entrate! C'è tanto da fare qui dentro! Ma la prima cosa che farò è una corsa a tutto intorno! Perché è importante riscaldarsi! Cominciamo! Ehi! Se siete a casa e avete poco spazio per correre all'interno, potete comunque correre intorno! In questo modo! Questa volta userò un piccolo spazio! Pronti? Wow! Ben fatto! È una bella sensazione! Sentire il cuore pompare, vero? Wow! Sono un po' stanco! Bene! È il momento di giocare! Wow! Guardatemi! Sto rimbalzando! Wow! Ok! Dai! Facciamo lo stretching! Bene! Andiamo qui! Anche a casa, quando vi siete riscaldati per bene, correndo e rimbalzando, fate stretching! Ah! Già! Sentite le vostre gambe che sono tese! E i muscoli contratti? Possiamo distenderli! Mi dà una bella sensazione alle gambe! Ok! Adesso la... Schiena! Wow! Yeah! Lo state... Wow! Facendo anche voi! Ottimo lavoro! Wow! Ok! Adesso continuiamo a giocare! Wow! Wow! Andiamo! Wow! Eccomi! Ehi! Mentre ero di là ho visto una cosa fortissima! Andiamo! È un grande spazio aperto dove potremo fare un po' di piegamenti insieme! Volete fare dei piegamenti con me? Ok! I piegamenti si fanno così! Primo ci si mette sulle ginocchia e poi si spinge via il terreno con le mani e le braccia! E questo aiuta a sviluppare un bel po' di muscoli! Pronti? Lo avete fatto? Yeah! Bel lavoro! Ok! Adesso lo facciamo di nuovo! Ma stavolta non ci appoggiamo sulle ginocchia! Ok? Pronti? E spingete con gli alluci! Wow! Yeah! Wow! Ben fatto! Piace anche a voi fare ginnastica? Anche a me! È divertente! Ci fa stare bene e ci fa vivere una vita molto lunga e felice! Ehi! Vedete cosa sto facendo? Esatto! Sto ballando! Ballare è un altro ottimo modo per fare ginnastica! Vi piace ballare? Oh! Sentite la musica? E' dolce e lenta! Volete ballare con me? La musica adesso è diventata veloce! Woohoo! Yeah! Bravi! Ballate! Ahah! Adesso che abbiamo finito di ballare, vi mostro qualcosa di interessante! Venite con me! C'è uno scivolo nella casa gonfiabile e ci si può saltare! Volete saltare con me? Ok! Accendiamolo! Quando sarà gonfiata, potremo saltare! Ok, andiamo! Wow! Yeah! Ahah! Adesso possiamo andare dentro e saltare! Wow! Così! Ahah! Quando salterò lì dentro, salterete insieme a me? ok andiamo siamo come delle rane a voi vengono in mente altri animali che saltano i canguri mi piace imitare i canguri! ok ora entro wow tanti animali saltano rane antilopi canguri li avete visti? questi si chiamano affondi vedete cominciate mettendo la gamba in avanti così provateci e poi abbassate la gamba dietro toccate il terreno col ginocchio e poi riportate la gamba in avanti così abbiamo appena fatto un affondo riproviamo due tre quattro e cinque vi sentite bruciare le gambe? wow ok prendiamo questi camion dei pompieri e usiamo anche questi uno due tre quattro cinque mi piacciono gli affondi mi piace ballare e mi piace imparare insieme a voi sapete cos'altro mi piace? mi piace gattonare! andiamo! gattonare ha un altro modo per fare ginnastica e movimento ecco che arrivo! mi vedete? ehi! sto gattonando come un orso! quali altri animali gattonano? già tanti lo fanno come i formichieri lo sapete cosa mangiano? formiche! che buffo! ehi! vi è mai successo di voler prendere qualcosa da terra ma non riuscite a raggiungerla? già! ehi! ci sono! possiamo fare un po' di squat insieme prima si piegano le gambe tenendo la schiena dritta e poi ci si abbassa verso terra ok vediamo! adesso metto qui questo e poi faccio uno squat! guardate! bene! eee! ben fatto! ora potete farlo come esercizio anche senza avere nulla fra le mani così! così! lo state facendo? ok facciamone insieme dieci! ok adesso siamo a zero! ora che sapete come si fa lo squat pronti? brucerà! andiamo! uno! due! tre! quattro! cinque! sei! sette! otto! nove! dieci! ah! vi fanno male le gambe? bravi! ottimo lavoro! andiamo a giocare ancora un po'! è stato divertentissimo giocare all'emmins playground di south pasadina california! ed è stato bellissimo anche imparare i movimenti e fare ginnastica! wow! wow! adesso siamo proprio forti! ben fatto! beh siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne altri tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! facciamo lo spelling insieme? pronti? b l i p p i! blippi! ottimo lavoro! beh a presto! ciao ciao! blippi blippi! seguimi e vedrai! ti divertirai! blippi blippi! il mondo scoprirai! molte cose imparerai! blippi!